A poche ore dalla gara che mercoledì pomeriggio vedrà impegnati i giallorossi al Via del Mare contro la Lazio, Mister Baroni ha le idee ben chiare su come bisognerà affrontare la squadra di Sarri. Dobbiamo centrare la prestazione perfetta, non sbagliare niente perché è un avversario che non ti permette errori. Già sono molto bravi loro a crearsi le condizioni per darti grandi problemi e noi non dobbiamo regalare niente, dobbiamo fare una prestazione sia dal punto di vista fisico che mentale di altissimo livello, di altissimo vigore. E' importante che questi giocatori abbiano poco spazio, quindi ci occorrerà dal punto di vista di squadra una grande compattezza, molta aggressività perché noi dobbiamo mettere questo. Io parlo sempre di prestazione e continuo a parlare di prestazione dei miei giocatori perché è quello che noi dobbiamo centrare. Attraverso quella prestazione può venire il risultato. Su chi invece schiererà, Baroni sottolinea che la formazione la fa il campo. Il tecnico però potrà contare sui recuperati di Francesco e Pongracic, assenti invece Settin, Bistrovic, Elgason e Listoski. E poi parla anche del neo arrivato Malè. Siamo contenti di averlo preso, c'è quello che a noi ci serve, è giovane, ha voglia, voglia di riscatto, è motivato. Oggi si è allenato, lui è in condizione perché ha lavorato fino adesso con la Fiorentina e quindi se non partirà andrà dentro subito dopo. Infine un commento sulla ripresa del campionato. Per me riparte un nuovo campionato, un campionato completamente diverso, un campionato che cambierà perché c'è un mercato in corso. Quello che chiedo ai ragazzi è un atteggiamento propositivo, un atteggiamento di fiducia, però ci serve sempre l'umiltà, la determinazione. Queste sono delle componenti che noi lì non possiamo sbagliare.